Marco Antenucci, lo ha visto il servito Boriello, Antenucci può cercare anche la conclusione, va invece a cross Kulam, sfiora l'alto rete, primo corner per la spalla. Spazio però per Amsic, alle spalle di Lazzari, può cercare il cross, va invece verso la conclusione, con Miss sul primo palo, prima occasione della partita. Profondità per Antenucci, posizione regolare, accompagna Scatarella, destro, spalla il vantaggio. Ha segnato il napoletano Pasquale Schiattarella. Il Napoli con Insigne, corto Cayetcon, Mora, ancora Cayetcon, sempre su Mora, fra tre avversari, al centro e sinistro, e trova il gol immediatamente del pareggio, Lorenzo Insigne, uno a uno. E' incredibile come un attimo di disattenzione proprio da parte della difesa, Insigne di sinistra all'incrocio, gran gol. Giavara, Amsic largo di prima bene, Goulam protocross, sempre di prima, Insigne in curva. Goulam, sull'interno, tocco corto, Mertens fra quattro avversari, ancora Goulam, chiuso da Salamon, in pallo, non c'è nemmeno calcio d'angolo. E via. Cerca anche la conclusione, chiuso da Lazzari. Goulam, cross, ottimo, centro, Cayetcon. Napoli in vantaggio, non perdona. Cos'è, Maria, Cayetcon, l'uomo dei gol, pesantissimi. Sì, ma che cross gli ha fatto veramente Goulam, cross incredibile. Goulam, insigne da solo, conclusione debole respinta, nella zona di Mertens, che va alla conclusione con Miss. Seconda parata decisiva. Viviani, destro, sul palo di Reina. Due a due, è pareggiato la Spal, John Viviani. Però Reina non può prendere gol sul suo palo. Sul lato debole, difensivo della Spal, Goulam, grande accelerazione di Goulam, che va addirittura col destro. E trova, e trova, e trova, di tre a due, Goulam.